Per arginare il fenomeno della contraffazione della cipolla rossa di Tropea, IGP, bisogna costituire un tavolo di crisi che coinvolga gli attori della filiera di produzione. La Regione Calabria e gli enti locali interessati, come promesso dal Governo già due anni fa. Lo affermano in una nota congiunta i deputati calabresi del Movimento 5 Stelle, Paolo Parentele e Dalila Nesci. Abbiamo interrogato sul tema il ministro delle politiche agricole, Martina, spiegano i deputati, perché la contraffazione di uno dei prodotti fiore all'occhiello dell'agricoltura calabrese sta mettendo in difficoltà gli agricoltori, che con onestà cercano di farlo conoscere nel mondo. Sono circa 200.000 quintali di cipolla rossa di Tropea, IGP, ricordano i deputati del Movimento 5 Stelle, prodotti ogni anno, ma sul mercato ne finiscono diversi milioni. Vuol dire che gran parte del prodotto che troviamo in commercio non può essere venduto freggiandosi del marchio di indicazione geografica protetta concesso dall'Unione Europea.